cari genitori che avete i ragazzi e le ragazze che frequentano le medie in particolare la prima media una buona giornata a tutti volevo raggiungervi con questo video per invitare soprattutto voi del primo anno a vivere il percorso che continua dopo la crisi ma si tratta ogni venerdì dalle 18 19 30 in oratorio vivere questo itinerario con anche l'ausilio di alcuni giovani e alcuni adulti catechisti i quali accompagneranno i nostri ragazzi che sono mai nella preadolescenza in questo percorso di rilettura del proprio vissuto attraverso alcune categorie che caratterizzano un po il loro sviluppo quindi la corporeità l'identità l'amicizia tutto in un cammino spirituale che si cerca di favorire loro attraverso la testimonianza degli educatori dei catechisti ma anche traverso un percorso cristiano che continua dopo la crisi ma tale modalità è molto coinvolgente perché prevede in alternanza un incontro di tipo formativo ma anche un incontro più laboratoriale quindi ci sono delle proposte anche concrete come la cucina palloncineria e poi c'è anche pasticceria e anche altre proposte che poi vengono fatte durante la forse un reciter si vuol fare insomma è un'opportunità grande perché i ragazzi possano creare anche gruppo mantenersi legati all'oratore ma anche vivere un'esperienza oltre alla scuola significativa di amicizia e di crescita che non è da escludere chi ha di cui hanno bisogno pertanto vi invitiamo a iscriverli e a parlarne con i vostri ragazzi ea vedere questa opportunità come davvero importante grande queste state per sono stati in campeggio erano quasi una cinquantina i ragazzi presenti si prevede anche per l'inverno qualche esperienza soprattutto in primo vero ci sono ancora tre giorni vivere insieme vi aspettiamo buona giornata arrivederci